ciao allora intanto prima di farvi vedere delle poche piccole creazioni che ho realizzato in quest'ultimo periodo mi scuso sicuramente per la luce ma purtroppo è arrivato l'inverno veramente tutto in un colpo e quindi ci sono solo nuvole e tanta pioggia da queste parti per cui le riprese di questo video saranno un po così così ho cercato di mettere il flash vediamo se mi aiuta a far vedere bene i colori seconda cosa voglio ringraziare tutti i miei iscritti che in questo periodo vedo che guardano il mio canale e si iscrivono e mi lasciano veramente dei commenti molto carini io purtroppo questo ultimo periodo riesco a pubblicare veramente poco perché ho poco tempo e un grosso mercatino da preparare e a cui tengo molto perché sono previste 5 o 6 mila persone in due giorni quindi poi vi dirò i dettagli più avanti e vi farò sicuramente vedere le foto che scatterò e quindi insomma diciamo che sono presa un po con le creazioni vi mostro appunto qualche creazioncina ma veramente poca che ho fatto appunto per il mercatino lo swap che manderò alla mia swappina e quindi sicuramente questo video lo pubblicherò verso la fine della settimana prossima quando penso lei l'ha ricevuto e niente poi vi mostro anche un piccolo esperimento che ho fatto allora iniziamo con dei braccialettini davvero semplici che ho realizzato ecco forse è meglio che tolgo vediamo se tolgo ok e sono questi braccialetti fatti con il cauchu pezzettini di cauchu delle coppette delle perle alla fine li ho chiusi ma più che altro per bellezza con questa chiusura cuoricino tibar che avevo preso da pietra e un ciondolino oltretutto ho usato e ne ho creati soltanto in base ai miei ultimi cuoricini tibar chiusure cuoricini tibar che mi sono rimasti e niente poi cerco disperatamente qualcuno che va da pietra a posto mio e niente dai allora vi mostro questo bracciale con le perle sul lilla voi le vedete più un viola scuro ma in verità è un rosa lilla poi l'ho fatta con questo verde e qua ci ho messo questa navettina come ciondolino sono molto carini e poi fanno un sacco di rumore ed è quello che a me piace e poi con perle classiche bianche invece di un ciondolino gli ho messo un'altra perla che scende poi ho fatto questo qua rosso con le perle leggermente più piccole quindi anche con le coppette un po' più piccole con la chiusura a cuoricino mi manca ancora un ciondolo da agganciarci perché non ne trovo più quindi mi sa che li ho finiti nel mio cassetto non trovo più charms quindi li riacquisterò poi passiamo sempre un'altra creazione per il mercatino ed è questa gerbera diciamo che mi è uscita aspettate che intanto vedo se riesco ad accendere che magari questa ci vuole un po' di luce mi è uscita con bellissima l'ho realizzata con questi colori sul turchese no forse devo tolgerlo ok insomma andiamo accendo solo un po' più la luce ok allora con questo colore sul turchese con questi diciamo queste macchioline che danno sul sul viola lilla argento ho fatto quindi il giro esterno il giro interno l'ho fatto con queste daghe più piccoline che sono sulla metista voi non so se vedete bene il colore e dentro un bellissimo cabochon crystal arby che fa di quei riflessi stupendi che dal vivo veramente sono molto luminosi e molto belli e queste piccole mini gocce color bianco e anche lì come sempre non sapevo mai come abbinare la relativa catena quindi ho scelto di mettere questo in motivi con perle catena fino a un certo punto purtroppo non ho un espositore a portata di mano per mostrarvelo devo sempre ricordarmi di tirarne su uno da mia mamma quando vado e poi ad un certo punto ho messo questo nastrino normale di seta che voi vedete blu o comunque un viola viola no forse blu ma invece un bellissimo viola scuro e intenso che diciamo che rende la creazione ancora più viva più accesa insieme a queste perle che me le aveva regalate Emanuela in uno swap che saluto e niente quindi diciamo che mi è piaciuta molto anche se il colore non è proprio un colore che io metterei però è veramente una bella gerbera ve la mostro un po' più da vicino ma i colori mi dispiace non si vede una cippa e niente quindi dopodiché vi mostro l'altra creazione che ho fatto per la mia swappina per nello swap di Annarella Gioielli che ho a cui ho partecipato come molte di voi ed è questo l'ho realizzato per quella che doveva essere la mia swappina poi dopo all'ultimo Annarella mi ha cambiato persona perché la ragazza penso a cui dovevo spedire non le ha mandato la foto quindi ha cambiato mi ha cambiato la swappina quindi penso che l'ha eliminata e ha collegato quella ragazza con me quindi immagino che che vabbè sicuramente è dispiacere per per l'accaduto Annarella Rosaria facciamo così quindi Rosaria ce l'ha però diciamo che è stata molto brava a gestire il tutto quindi grazie Annarella di tutto e niente poi ti ho ti ho già ringraziato poi in privato anche perché comunque con me è stata veramente molto gentile e niente quindi ragazzi anche questo è un ciondolo che ho realizzato appunto sui questi colori perché a quella ragazza piacevano questi colori quindi sui colori del blu o dell'azzurro quindi ho preso questa perla grossa forse 14 o 16 adesso non ricordo di Swarovski sull'azzurro e l'ho iniziata a decorare vedete e con Super Duo che avevo preso nel pacco da Perle S&C nell'ultimo acquisto Swarovski e cipollotti sull'acqua marina e ho messo Swarovski bianchi e aspettate che tolgo anche questo ok intanto mi si accende il flash comunque e niente diciamo che insomma non è un'invenzione assurda perché comunque tutte noi ci siamo arrivati ho solo seguito il mio istinto quindi non dico di aver inventato nulla ho solo seguito il mio istinto e mi è uscito fuori questo ciondo che spero che alla mia swappina piaccia lo stesso anche se i suoi colori principali erano altri però diciamo che all'ultimo ho aggiunto un piccolo un paio di orecchini che sicuramente anzi spero che siano di suo gradimento quindi ho realizzato questo ciondo l'ho messo un semplice filo in organza bianco anche perché poi penso che la persona che poi lo indosserà poi possa scegliere direttamente se mettere un altro nastrino un cordoncino una catina quindi diciamo che la creazione madre comunque era questo ciondolo quindi queste sono proprio le creazioni che mi sono che sto realizzando in questo periodo e mi piacciono vi faccio vedere anche un piccolo mostro cioè un esperimento vi ricordate che ho fatto diversi di quei gufetti che avevo preso il kit da azzurra in fiera lo scorso anno ne ho realizzati di diversi colori e uno l'avevo realizzato anche per una mia swappina quest'estate allora mi è sempre venuto in mente di poter di provare a realizzare un mini gufo magari per un anello e ne ho bozzato uno diciamo che è tutto ancora da modificare perché ho usato swarovski da 4 mm per fare le ali di lato ma in verità visto che è una cosa veramente piccola sarebbe stato opportuno che usassi swarovski da 3 mm che purtroppo però non avevo in casa e quindi diciamo che come prova può andar bene anche se sinceramente mi sembra un piccolo sgorbietto però ve lo mostro lo stesso perdonatemi ed è questo qua è un piccolo gufo sempre realizzato con le embroidery nei colori dell'azzurro e e niente quindi vabbè poi l'ho fatto nell'azzurro per mia madre perché poi volevo visto che comunque è una prova lei si prende di tutto quindi ho pensato poi di rifirargli anche questo e niente quindi diciamo che questo è il gufino anche qui non si vede bene ma è uno swarovski crystal adesso non mi ricordo più le misure che ho preso a perle se vi interessa poi chiedetemelo che cercherò sicuramente la fattura e vi saprò dire ho messo questi due strass castoni strass piccolini per fare gli occhi e ho fatto esattamente la stessa identica lavorazione del gufo grosso ecco come vi dicevo ho fatto le ali che oltretutto non si vede neanche la gradazione di colore bene sembrano uguali questi colori di swarovski invece comunque questi interni sono acquamarina e questi blu che non ricordo più il nome perché me ne erano rimasti veramente pochi quindi li ho usati però sarebbe stato più opportuno usare swarovski da 3 mm per rendere il tutto un po' più fine per metterlo all'anello ecco poi ho fatto il brick stitch si dice così si per comunque sistemare i lati e avevo infilato precedentemente e ho incollato dentro una base di un anello e diciamo che sul dito adesso se questo gufo fa il bravo ok ve lo mostro diciamo che non è brutto non è neanche chissà che grande però vabbè mi sembra un piccolo sgorbietto a mia madre piace quindi come vi ho detto si prende sempre tutto e niente quindi queste qui sono tutto quello che volevo mostrarvi questo video lo pubblicherò sicuramente quando lo swap sarà arrivato alla ragazza a cui devo mandare il tutto e ci vediamo sicuramente o primo dopo questo video con altre videocreazioni sempre in vista del mio mercatino e niente vi mando un bacio e alla prossima ciao ragazzi